In questa domenica noi ascolteremo il Padre Nostro nella edizione di Luca, che è più asciutto, più semplice e nello stesso tempo forse anche più radicale, ma è all'interno di una richiesta dell'apprendimento della preghiera. I discepoli dicono insegnaci a pregare, ecco imparare a pregare, a pregare bisogna imparare sempre, sempre da capo, sempre di nuovo, è come imparare a parlare ancora meglio con chi amiamo, con le persone a cui vogliamo bene, bisogna sempre parlargli meglio, bisogna sempre imparare da capo a parlargli e così parlare con Dio, avere un rapporto con Lui, che è bello che nella vita spirituale ci sono tante fasi, si evolve, si impara di nuovo, si impara di più, si approfondisce. Quello che noi vediamo oggi è che nella prima lettura, è capito il diciottesimo del libro della Genesi, c'è Abramo che parla col Signore, parla di Sodoma e Gomorra, parla intercedendo per loro, per queste città all'interno delle quali a Sodoma c'è suo nipote e lui è preoccupato per le persone a cui vuole bene, vuole salvarle, ed è curioso che si stabilisce questo dialogo fra Dio e Abramo, come se Abramo sia più buono di Dio, dove gli dice ma tu vuoi distruggere pure i giusti, ma dai, se ci stanno 50 giusti o 40 o non so, o 20, ma che fai, tu li distruggi? No, non la distruggerò per riguardo a quei dieci. In realtà, di fatto, il problema è che Abramo, parlando con Dio, lo conosce sempre meglio, Abramo scopre che Dio non la distruggerà per riguardo a quei dieci, cioè, poi di fatto, siccome dieci non ne trova, salva quei pochi che trova, li tira fuori e distruggerà la come segno dell'esito a cui porta la cattiva accoglienza e l'abuso del prossimo che si celebrano a Sodoma e Gomorra. La realtà, appunto, è che in questo dialogo si conosce l'altro e si conosce Dio, ma perché noi dobbiamo pregare Dio? Come se Dio non sapesse già ciò di cui abbiamo bisogno, è come se Dio non ci volesse bene abbastanza da chiedere le cose per noi o sapere cosa possiamo noi desiderare. perché? Dio ha voluto veicolare la grazia che salva l'uomo, il bene che salva l'uomo per l'uomo stesso, per la sua preghiera, per l'amore. Facciamo un esempio per capirci. Nessuno di noi riceve il Vangelo direttamente da Dio. Noi lo riceviamo dalla Chiesa, lo riceviamo da uomini e donne che ci evangelizzano, a partire, speriamo, dai nostri genitori, che sono sempre i migliori evangelizzatori dei bambini, se lo fanno. Ma l'amore, la carità, la cura di qualcuno è la strada della grazia di Dio. La preghiera è la strada delle grazie. Dio ha scelto di salvarci per mezzo del nostro amore reciproco. Che cosa curiosa. C'è l'insistenza di Abramo che è l'affetto per il suo nipote. Ed è lì che si ottengono le cose buone di Dio. Cioè noi stiamo in una relazione reale di Dio, con Dio. E cioè noi non possiamo pensare che Dio ci imponga la grazia. Dove non c'è amore, non passa amore. Non può passare. Dove c'è amore, passa amore. E dove c'è amore anche povero, balbettante, nostro, ma riferibile a Dio, ecco Dio passa con tutta la sua potenza e la sua magniloquenza. Ecco che compare infatti il Vangelo. La preghiera come un luogo di relazione col Padre, dove il perdono verso ogni nostro debitore e la vittoria sulla tentazione e sul male. E il vivere nella verità partono tutti dal vivere da figli. Altro è vivere da sudditi, altro è vivere da figli. E la connotazione filiale della preghiera è essenziale, nitida e non c'è preghiera più alta di questa che ci ha dato il Signore. E la sua natura è lo stabilire una relazione da figlio a padre. Ma poi c'è questa parabola simpatica del tizio che va a chiedere a tutti i costi dei pani per un amico che è arrivato. C'è questo tizio che arriva e dice, ti prego, è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da offrire. Quante volte stiamo messi così? Non abbiamo nulla da dare. Cioè quello che abbiamo da dare è proprio nulla. Quante volte arrivano i nostri amici, arrivano le persone intorno a noi, ci chiedono qualcosa, ci chiedono una parola, un pane, una consolazione e noi non abbiamo nulla da dargli. Dobbiamo andare a chiederle a qualcuno. L'immagine è questa casa chiusa che è il luogo della grazia dove un padre è andato a dormire e i suoi bambini pure. Che è questa intimità di Dio, questa intimità delle cose buone e belle. E questo che bussa, che bussa e dice, no, la porta è già chiusa, non posso alzarmi per darti i pani. E dice Gesù, vi dico che se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. E cioè si stabilirà la relazione che forse non era amicizia. Tante volte le condizioni di emergenza a cui la vita ci costringe ci fanno finalmente diventare dei pregatori autentici. E cioè diventiamo oranti in funzione del fatto che siamo angosciati, siamo preoccupati, non sappiamo come rispondere ai fatti. E allora se non per amicizia, almeno per insistenza, riusciamo a penetrare nel forziere delle grazie di Dio. E quindi la forza non è nella nostra qualità umana perché non eravamo amici, non avevamo stabilito amicizia con Dio forse. Ma Dio guarda ciò che veramente stiamo domandando, ciò che veramente chiediamo. Infatti questo testo termina con chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto dove la forza è chiedere, cercare, bussare. Dobbiamo stare attenti ad avere delle vere domande. Anche in mezzo a tanta povertà relazionale e a tanta superficialità spirituale noi potremmo fare un salto, un balzo per mezzo di una vera richiesta di poter aiutare le persone che ci stanno intorno. Quel gridare a Dio, io non so come stare accanto a questo mio amico, io non so come crescere i miei figli e se anche con Dio tante volte siamo un po' freddini e strani, questa angoscia ci aiuta, la voglia di dare pane a quelli che abbiamo intorno. Badiamo bene, qui si cerca il pane per l'amico, quando uno lo cerca per sé, quella non è preghiera, quella è egoismo. E tutto parte da questa storia di chiedere pane per qualcuno. Quando ci facciamo entrare nel cuore l'esigenza di qualcuno e diventiamo insistenti perché ci teniamo veramente. Ripetiamo, le grazie di Dio passano per l'amore, le grazie di Dio passano per il fatto che uno si prenda a cuore la fame di qualcuno, di qualcun altro e voglia il pane da Dio e non da altri.